Come si dice a Roma, notte da leoni, giornata, andiamo al mare, schiaffo, spacco, svuoto il mare dalle acque, se costruisco una piscina faccio 100 vasche, poi scopo il mare e poi mi faccio un altro 100 vasche e mi distrugge nessuno a me, ecco, due ore di mare, ecco tutti, fratello e sorella, guarda qua, io che ho raccolto 10 kg di lettellino con una botta sola, ho lavorato tutta la notte e mi ho guido pure, non dice nessuno. Grazie.